L'incontro tanto atteso è arrivato, ritenuto da tutti costruttivo. I rappresentanti dei sindacati si sono confrontati a Torino con l'amministratore di Stellantis, Carlos Tavares, che ha quindi avviato il dialogo sugli aspetti più difficili della trasformazione dell'industria dell'auto. Ha assicurato che nessuna fabbrica Stellantis in Italia chiuderà. Abbiamo discusso con il governo, ha detto Tavares e i giornalisti, per la realizzazione di una gigafactory in Italia e poi abbiamo ufficializzato la scelta su Termoli. Vediamo step by step cercando la soluzione ottimale. Nelle prossime settimane potrebbero essere resi noti i dettagli sul programma degli interventi sulla fabbrica della città molisana. Quello con i sindacati e Tavares lo ha definito un confronto positivo. Dobbiamo cercare, ha detto il manager, soluzioni concrete e non cose generiche. Tavares ha sottolineato i quattro obiettivi del piano industriale di Stellantis, progressiva riduzione delle emissioni di carbonio fino in prospettiva alla totale neutralità, vendita del 100% di veicoli elettrici in Europa e del 50% in Nord America, miglioramento della qualità e grande attenzione alla competitività e alla redditività per garantire la sostenibilità del colosso dell'automotive. Nel 2030 siamo pronti a vendere il 100% dei nostri modelli elettrico e stiamo preparando, ha detto il manager, l'azienda per questo. La conseguenza è doppia. In maniera progressiva tutti i nostri siti in Europa e in Italia produrranno veicoli elettrici. L'Italia è il cuore di questo processo. Faremo annunci sito per sito sulla base della maggiore competitività possibile. Il manager Tavares e i sindacati chiedono al governo di sostenere chi investe.